Ciao a tutti ragazzi benvenuti benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo a parlare della campagna di crowdfunding di Keyforge nello specifico la campagna per il rilancio di Winds of Exchange da parte di Ghost Galaxy ovvero i nuovi proprietari del marchio Keyforge oggi andremo a vedere, il video sarà diviso in due parti, andremo a vedere prima proprio nello specifico la campagna, come è formata, quali sono i pledge, quali sono i costi di spedizione, le tasse doganali quindi un va-de-vecum con tutte le informazioni che saranno utili soprattutto a noi diciamo con base in Italia per andare a finanziare, andare a capire effettivamente come conviene muoversi all'interno della campagna quindi vedremo tutti quanti gli stretch goal che sono già stati raggiunti e quelli che sono appunto raggiungibili nei prossimi giorni e poi nella seconda parte andremo a parlare del torneo online su Crucible che stiamo organizzando per appunto finanziare e spingere maggiormente la campagna ma adesso andiamo immediatamente a vedere com'è il sito appunto della campagna che è questo qui, è su Game Fund, questa è la piattaforma scelta da Ghost Galaxy e la prima cosa ragazzi che salta all'occhio per chi appunto non lo sapesse è questa qui cioè che abbiamo, sono già stati finanziati ben 488 mila 8 dollari nel momento in cui registro su un goal iniziale di 500 mila dollari quindi l'obiettivo minimo della campagna è stato raggiunto in 27 minuti e 31 secondi alla faccia del gioco morto quindi come è fatto? intanto c'è una cosa che magari non tutti hanno notato ovvero che in alto a destra è possibile switchare tra dollari ed euro e io adesso per comodità vado a convertire tutti quanti i calcoli che faremo da qui in avanti in euro questo è tra l'altro molto molto volatile perché lui fa un calcolo su qual è il valore del dollaro rispetto all'euro in questo momento ad esempio stamattina era più forte l'euro in questo momento sono praticamente uguali quindi questa è una cosa veramente molto molto in evoluzione però noi lo mettiamo in euro per comodità allora nella prima parte del progetto è spiegato come mai è stata fatta questa campagna ma non è l'obiettivo di questo video quindi questo semplicemente potete andare a leggere, viene spiegato quali sono le basi del gioco ma di nuovo questo video è dedicato a chi il gioco lo conosce e chi vuole solamente capire come orientarsi all'interno della campagna e quindi saltiamo autoplay e andiamo direttamente ai rewards allora questi sono appunto quelli che si chiamano in gergo i pledge e ne abbiamo sei il primo che è stato rivelato è questo qui da 150 dollari ma andiamo in ordine di prezzo crescente ovvero abbiamo il novello del crucible va bene semplicemente questo qui è pensato per i nuovi giocatori e quindi comprende uno starter set per due giocatori di Wind of Exchange quindi all'interno troverete due mazzi chiusi di Wind of Exchange più due mazzi demo va bene uguali per tutti e poi due ulteriori mazzi chiusi va bene quindi abbiamo due mazzi normali uno starter set che a sua volta contiene due mazzi chiusi quindi in totale quattro mazzi chiusi per 50 dollaroni in più a questo come a tutti gli altri pledge della campagna vengono aggiunti gli stretch goal si chiamano ma li andiamo a vedere successivamente per adesso vediamo quali sono i contenuti standard i contenuti base dei sei pledge dopodiché abbiamo il Seeker of Dex semplicemente chi vuole solamente mazzi senza altri accessori e quindi qui troviamo sei mazzi del nuovo set avanti da 75 dollari incominciamo ad avere anche qui un assaggio del nuovo merchandise infatti oltre ai sei mazzi troviamo un tappetino a scelta di Wind of Exchange qui vedete semmai ve lo zoom un attimo le artwork dei tappetini uno per ogni casa presente all'interno di questo set sono tutti molto 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 fighi ma io se dovessi scegliere e dovrò scegliere perché a un certo punto li prenderò anch'io mi sa proprio che prenderò gli Equidon e i Sauri che è questo artwork che mi fa impazzire mi piace veramente tanto comunque qui si va chiaramente a gusto anche questo Logos non è niente male non è niente male poi sappiamo che il nostro piacere e le artwork è molto influenzato da come sono le carte che rappresentano quindi una carta forte io un artwork con una carta forte lo voglio più volentieri di un artwork con una Bad Penny diciamo però adesso non essendo ancora uscita questa carta non sappiamo effettivamente se queste creature queste azioni rappresentate saranno all'altezza della loro bellezza grafica ecco comunque questo è il contenuto di Hunter of Shards quindi il pledge da 75 dollari dopodiché abbiamo in ordine di costo crescente abbiamo Reaper of Ember appunto dicevo il primo che è stato rivelato ed è il primo per un motivo perché è oltre appunto a contenere 12 mazzi chiusi due tappetini a scelta tra quelli che vi ho fatto vedere adesso abbiamo la più grossa novità di questa campagna o comunque dei reward di questa campagna che sono i mazzi personalizzati ovvero sarà possibile indicare in fase di conferma dell'acquisto quindi non immediatamente ma una volta chiusa la campagna non immediatamente adesso che magari fate l'acquisto ma quando poi si pagherà sarà possibile indicare il nome che vogliamo stampato sul nostro mazzo quindi sarà un mazzo assolutamente normale come tutti gli altri quindi non sarà possibile scegliere le case non sarà possibile scegliere ovviamente la lista ma sarà possibile scegliere il colore dell'Arcon Deck insomma dell'Arcon Card e il nome inserito il nome a sua volta come specificato nelle facche non sarà il nome completo ma sarà quello inserito tra le virgolette quindi avrà magari delle parole prima e o dopo però questo lo potete leggere tranquillamente nelle facche non sto adesso ad ammorbarvi troppo sta di fatto che insieme a il mazzo vi arriverà il relativo tappetino quindi con lo stesso identico Arconte disegnato la possibilità di avere o non avere le tre case che l'algoritmo genererà per voi quindi c'è la possibilità di dire no io voglio senza le case sopra perché almeno io questo qui lo posso usare anche con altri mazzi non per forza correlato al mazzo dal quale proviene e anche qui ovviamente come vedete qui il nome che avete scelto che deve essere per forza lo stesso quindi c'è lo stesso nome sul mazzo e sul tappetino andando avanti abbiamo il Pledge Breaker of Chains che personalmente è quello che ho scelto come vedete qui a destra e che stamattina costava 417 euro adesso 420 che contiene 36 mazzi 2 tappetini a scelta un 3x di quello che vi ho appena spiegato cioè dei mazzi personalizzati più il Fuzzy Gruen cari miei il Fuzzy Gruen e quindi il peluche del Gruen peloso e una statuetta del Nympholeip e una statuetta dell'Officer Moon qui lo vedete in rapporto ai mazzi e quindi sono della misura delle statuette come quella di ombre che era nei kit OP a inizio pandemia perciò appunto questa è una delle opzioni la prima opzione che contiene il Gruen peloso che è il mio target principale e appunto sta a 420 dollari e 420 euro andando avanti abbiamo il più costoso dei pledge ovvero Turner of Keys che ha 72 mazzi 2 tappetini 3x del mazzo personalizzato il Nympholeip l'Official Moon il Gruen in più abbiamo anche la Dusk Runner quella che appunto viene dai kit OP e anche la cosa appunto caratteristica di questo pledge è il Collector Set che da solo vale 65 euro e appunto è un 1x di tutte quante le carte di questa espansione quindi 350 e più carte con un retro particolare che vedete qui in figura e quindi è un ottimo ottimo prodotto per i collezionisti benissimo questi sono i pledge base i pledge base che una volta che uno gli aggiunge appunto al proprio carrello li può gestire all'interno della della sezione Your Pledge come vedete io qui ho appunto selezionato il Bricker of Chains ho un mazzo gratuito dei precedenti set perché ho followato la campagna prima del suo inizio e sarà così per tutti quelli che hanno messo il follow prima dell'inizio e come vedete posso selezionare il Playmat posso selezionare il colore dei miei mazzi che sono tre in questo caso perché il pledge è da 4,20 e posso scegliere se avere o meno le case stampate sul tappetino ok in un successivo momento potrò inserire il nome del mazzo da me scelto benissimo andiamo adesso a vedere qui nel frattempo sale perché prima eravamo in dollari a guardarlo in dollari oh Dio sale e scena insomma la gente mette poi toglie è molto dinamico però ragazzi in Cina dal 9 settembre ad oggi che registro che è il 14 488 mila dollari insomma è veramente tanto andiamo a vedere a vedere gli addons prima gli addons gli addons sono gli unici oggetti che è possibile aggiungere al proprio carrello senza dover fare un nuovo pledge e sono il set di token perché appunto sapete che in questa espansione ci saranno i token e è possibile selezionare quale vogliamo si tratta di 36 carte ognuna che rappresenta due diversi token va bene e c'hanno una doppia faccia quindi da una faccia c'hanno un token dall'altra c'hanno un altro e dopo di che abbiamo 9 euro e 99 abbiamo lo starter set abbiamo il collector set abbiamo un arconte normale semplice a 13 dollari che sarà il prezzo di vendita poi anche successivo alla campagna possiamo mettere un playmat possiamo mettere una delle avventure attualmente presenti sia l'avventura stessa quindi le carte ok a 25 dollari sia il relativo playmat che è di una figaggine incredibile se uno c'ha lo spazio di giocare c'ha la voglia di riprendersi questo è un prodotto veramente bello veramente bello 40 dollari non sono pochi ma secondo me vale la pena quindi chiaramente sia dell'avventura del crackhaven che degli abissi della conspirazione degli abissi va bene e in più ci sono gli addons relativi agli stretch goal in questo momento disponibile c'è solamente il savirov keyforge che adesso tra un attimo vi vado a spiegare ma saranno aggiungibili nuovi stretch goal una volta che saranno raggiunti all'interno della campagna vado subito a specificare che non è possibile aggiungere niente che non sia in questa sezione degli addons nonostante se io vado a cliccare in uno dei pledge ad esempio con il gru impeloso lui qui ah no adesso l'hanno ok l'hanno fixato l'hanno fixato scusatemi perché fino a ieri quando ho controllato questa cosa era possibile aggiungere ad un costo di 20 dollari il fuzzy gru ma avevano già specificato da qualche giorno che non era effettivamente possibile quindi questo oggetto come vedete scritto qui non è aggiungibile separatamente ma si trova solamente all'interno dei due pledge più alti stesso discorso vale per le statuine andiamo a controllare se anche queste l'hanno fixate esattamente prima era possibile qui aggiungere al pledge benissimo quindi si è tolto si è tolto questo dubbio inoltre qui c'è una sezione dove chi vuole può dare una mancia può donare semplicemente i suoi usd dollars senza avere niente in cambio però insomma visto tutta la roba che c'è vi conviene prendere qualcosa allora passando adesso agli stretch goals abbiamo quelli che sono già stati raggiunti perché appunto come vi dicevo la campagna ha superato ha devastato il suo obiettivo minimo di 50.000 dollari in 27 minuti e nel giro di pochissimi giorni ha superato anche quelli che vedete come appunto obiettivi obiettivi aggiuntivi allora partiamo con il free token card set che qui vedete è aggiunto ad ogni pledge ma questo non significa che per ogni pledge che voi comprate riceverete un aggiuntivo token set va bene questo si intende per bakers ovvero per ogni ordine io Leonardo che faccio un ordine magari con un pledge da 150 un pledge da 65 un pledge da 4 e 20 perché ho vinto la lotteria riceverò comunque un solo gratuito token set va bene quindi a prescindere a quale sia il numero di pledge che voi andate ad acquistare ogni baker riceverà uno di questi strategy goal reward il secondo che è stato sbloccato con i 300.000 dollari è il savior of keyforge quindi un mazzo che ha la lista assolutamente normale quindi generata con l'algoritmo solito ma sulla parte frontale avrà il bordo con una grafica speciale una grafica che potrebbe ad esempio ricordare quella delle anomalie anche se non sarà uguale per un motivo che vedremo successivamente ma appunto sarà unico sarà una cosa acquistabile e ottenibile solo esclusivamente durante questa campagna quindi è veramente una cosa da non perdersi e la potete trovare anche nella sezione add-on quindi in questo momento i savior of keyforge sono acquistabili anche separatamente da aggiungere a un qualsiasi altro vostro pledge al costo di 17 dollari benissimo abbiamo detto il pledge da 300.000 dollari vediamo quello successivo da 400.000 dollari perché anche questo è stato bruciato in scioltezza e questo è quello che personalmente ritengo il più interessante in assoluto perché sono dei mazzi che loro hanno chiamato unchained unchained quindi senza vincoli e sono senza vincoli di nome di fatto perché verranno generati eliminando tutti quanti vincoli tutte quante le regole aggiuntive che l'algoritmo attualmente deve seguire per generare una lista ad esempio parlando di vecchi set poteva esistere solamente un solo accesso alla biblioteca per mazzo qui ne può esistere quante te ne pare potevano esistere un numero limitato di carte maverick e carte legacy qui potrebbero essere tantissime e infatti lo dicano che quindi avrà un razio una cadenza maggiore di legacy e maverick il che è una cosa veramente figa è impensabile la qualità e la quantità di combo mai viste che potrebbero uscire da questi mazzi e loro chiaramente dicono che non garantiscano affatto l'ordine il balance va bene quindi quanto saranno equilibrati e soprattutto la sanità di questi di questi pazzi deck e quindi appunto vedremo cose mai viste hanno detto che questi mazzi non saranno utilizzabili nei tornei normali ma che stanno pensando e stanno pensando in modo di dire nel senso hanno già deciso rifatto di avere un formato dedicato a questi mazzi e questo mi fa pensare che al contrario dei savior decks questi mazzi non saranno acquistabili solamente durante questa campagna perché è assurdo pensare dei tornei con dei formati che per i quali appunto il mazzo o ce l'hai dalla campagna oppure non puoi partecipare quindi è molto probabile non l'hanno detto ma è molto probabile che questi mazzi saranno in qualche modo ottenibili anche successivamente magari non con zero regole come sono adesso però una cosa del genere penso che sarà comunque ottenibile più avanti perciò vedete l'unica l'unica regola è che ogni caso ci saranno tre case con 12 ma non 12 carte ciascuna e dice few others exceptions insomma veramente potrebbe succedere di tutto e benissimo abbiamo parlato del mazzo a 400 mila dollari anche questi come per tutti gli altri stretch goal saranno aggiunti gratuitamente ad ogni baker va bene e al momento però gli unchained non sono ottenibili separatamente come addons perché infatti non li vedete in questa sezione nonostante a gran voce in tanti li stiano richiedendo andiamo avanti con il pledge che è stato raggiunto ieri rispetto ad oggi che registro ovvero in data 13 settembre ed è something sinister comes ovvero che loro si sono impegnati a rivelare il il nome del prossimo set successivo a venti di scambio quindi il settimo set di keyforge e lo andremo a vedere dopo ma non solo quello che abbiamo sbucciato che abbiamo sbloccato con questo stretch goal è che verranno inserite in ogni ordine quindi ancora una volta non per pledge ma per baker tre tre carte ora lo sto leggendo al volo esatto tre carte che saranno delle preview del set successivo quindi quello del quale andremo a dire il nome tra poco quindi tre carte spoiler non per tutti uguali ma appunto prese a random da un pool di carte previste per questo per questo preview ma non solo una di queste tre carte potrebbe essere estratta tra le 250 copie che sono state personalmente firmate autografate da Richard Garfield in persona il creatore il designer di Keyforge e questa è una cosa pazzesca di una figaggine incredibile quindi ripeto tre carte del set prossimo prese da un pool insomma pullate da un da un insieme di carte previste che siano spoilerate di queste tre una potrebbe essere una delle sole 250 copie firmate da Garfield non solo ma una di queste carte sempre potrebbe essere una delle cinque carte che saranno in singola copia quindi ci sono 250 carte appunto in 250 copie firmate da Garfield e poi ci saranno cinque carte con solamente una copia vuol dire che ci saranno cinque persone al mondo diverse per forza perché sono anche più a Baker's che avranno che saranno gli unici esclusivi proprietari di una carta mai firmata prima da Garfield non solo ma aggiungeranno all'interno dei mazzi di questo set quindi quelli che saranno disponibili per tutta quanta l'espansione va bene delle carte anomalia presenti cioè delle anomalie che provenienti da il settimo set quindi da quello che vedete in questa immagine e questo è il motivo per il quale vi dicevo che i Saviordex non avranno lo stesso bordo delle anomalie perché le anomalie saranno anch'esse presenti in Winds of Exchange e faranno parte appunto del settimo set che adesso andiamo a a vedere come come si chiama andiamo a vedere l'ultimo update che è questo qui del giorno 5 ovvero del 14 stanotte ma insomma stanotte è tardi quindi tra ieri e oggi e appunto il nome lo spoiler che abbiamo avuto del settimo set che si chiamerà Grim Reminders e sarà tutto quanto a tema a tema fantasmi a tema carte scartate e tutta una serie di cose del genere non solo ma sono in grado di dirci che stanno lavorando ad una terza avventura cooperativa quindi come quella del Crachiavene e quella degli abissi che sarà inserita all'interno dei due pledge più costosi quindi il pledge da 420 e il pledge da 750 quindi queste due queste due queste due pledge riceveranno in più gratuitamente la la terza avventura in co-op che sarà però anche acquistabile come add-ons esattamente come le altre due Key Forge Adventures e come vedete questo questo stretch goal è stato raggiunto non ho finito perché la cosa che mi fa personalmente un enorme piacere è che all'interno di questo update loro stanno inserendo anche i content creator che hanno fatto gli spoiler delle carte quindi all'interno della campagna ci siamo noi c'è il link al video con appunto gli spoiler delle due carte che se non avete visto vi invito a recuperare trovate chiaramente sul canale in evidenza questo video e benissimo abbiamo qui anche i Fire Chicken abbiamo negli scorsi update anche gli altri content creator abbiamo qui Archon's Corner e Wild Wormull quindi sono stati veramente molto celeri a mandare a creare queste update poi abbiamo la sezione FAQ si spiega la sola ve la potete leggere da voi la sezione commenti che è un forum dove uno può parlare di quello che vuole e rispondono i proprietari di Keyforge lo stesso lo stesso Patterson abbiamo detto la sezione per il manage del Your Pledge intanto vediamo che stiamo salendo stiamo raggiungendo il prossimo il prossimo stretch goal che appunto è come vedete quello forse più importante per noi italiani ovvero A Crucible of Languages che impegna una volta raggiunti 500.000 dollari impegna Ghost Galaxy a tradurre in italiano francese tedesco polacco spagnolo e spagnolo i nuovi set di Keyforge e questo vuol dire che automaticamente verranno localizzati e distribuiti in Italia io immagino da Asmode Italia anche se questo non è ovviamente ufficiale perché ancora manca abbiamo raggiunto la campagna lo stretch goal però chiunque sia il distributore e io mi auguro e sia Asmode come mi auguro e sia Asmode il team di traduzione sarebbe il massimo per noi va bene quindi la notizia migliore 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 di tutti non solo ma una volta raggiunto questo goal tutti quanti i bakers che lo vorranno potranno scegliere di cambiare la lingua dei loro mazzi presenti nel pledge manager quindi se uno ha preso quello da 72 mazzi si può cambiare tutti quanti in italiano però notate bene che invece il mazzo personalizzato rimarrà in inglese va bene benissimo benissimo andiamo a vedere il successivo allora qui abbiamo la versione 750 mila dollari che sblocca il cinese il coreano il portoghese e il tailandese va bene la stessa identica cosa e abbiamo il il pledge da 550 mila che appunto sblocca le la nuova avventura e come dicevo prima lo aggiunge ai due tier più alti quindi breaker e turn of keys non solo ma una volta raggiunto questo pledge verrà dopo altri mille dollari verrà rivelato il pledge successivo perché loro scusate lo stretch goal successivo perché loro ne hanno già pronti e nascosti alcuni e rivelano via via che si raggiunge lo stretch goal precedente tra l'altro nota di colore questa è l'artwork che abbiamo spoilerato noi di Batariel quindi sono particolarmente fiero di questa cosa questa è la carta come vedete l'abbiamo spoilerata nel video ed è quella dedicata agli spoiler dei nuovi stretch goal quindi questa cosa mi gasa veramente tanto tra l'altro nota di colore dicono oh se stiamo dormendo non avete furia perché li mettiamo quando da noi in America il giorno sta cosa mi fa molto ridere benissimo ci manca una cosa molto molto cara e molto importante per questo video ovvero il discorso spedizioni qui abbiamo delle tabelle che appunto divide a seconda delle zone a noi ci interessa l'Italia ci interessa l'Italia e vedete qui che per l'Italia i costi sono andando in ordine i novizi quindi quello da 50 dollari costa 18 dollari di spedizione Sikerovdex 13 poi 19 24 36 51 dollari abbiamo visto l'euro e il dollar stanno 1 a 1 e quindi potete tranquillamente tradurre in euro queste cifre questo cosa vuol dire vuol dire che il vostro costo totale del pledge sarà dato dalla spedizione più il costo stesso del pledge più l'iva infatti andiamo andiamolo a beccare nella sezione FAQ che è spiegato benissimo noi che siamo in Italia comprando dall'America ovviamente abbiamo da pagare l'iva abbiamo da pagare l'iva era questa quella quella giusta papapom sì vabbè comunque papapom sì anche questo ci interessa abbiamo da pagare l'iva abbiamo da pagare l'iva che ovviamente come sapete in Italia è del 22% questo significa che al costo del pledge al valore del pledge avete da aggiungere l'iva intanto 490.000 si sale si sale ad esempio abbiamo il andiamo in euro andiamo in euro almeno si vede esattamente euro io vado a vado ad esempio il quello del 150 va bene che è il più scelto è stato scelto 1405 volte va bene quindi è il preferito di tutti quanti io vado sulla calcolatrice vado sulla calcolatrice e faccio 150 punto 15 più 22% di iva siamo a 183 virgola 183 a cui devo aggiungere come vedete i i i i 24 dollari quindi facciamo 24 euro della spedizione perciò il mio costo totale comprensivo di tutto di spedizione tasse doganali che è l'iva l'iva sono le tasse doganali e mazzi stessi sta a 207 euro in questo momento varia a seconda dell'andamento del dollaro sull'euro ovviamente quindi tra 14 insomma il 26 tra 12 giorni potrebbe cambiare di qualche euro questo vuol dire che non ci sono altri costi nascosti questi sono i costi non ci sono altre spese doganali segrete questo è quanto andrete a spendere in questo momento 200 non lo vedrete mai c'è la luminosità troppo alta 207 euro va bene per il pledge del del reaper questo qui però però se voi andate a ad acquistare più pledge non è che il costo rimane uguale il costo della spedizione il costo della spedizione cambia quindi all'aumentare del peso fondamentalmente dei vostri pledge aumenta il costo della spedizione però non è possibile saperlo in anticipo si sa nel momento dell'acquisto finale loro dicono che stimano che il costo aggiuntivo per chi aggiunge item e per chi aggiunge pledge quindi ad esempio uno si fa due pledge da 150 sarà inferiore al 50% del costo più alto dell'espedizione facciamo un esempio io voglio acquistare un reaper of the ember quindi quello da 150 e mi costa 24 dollari e poi mi voglio acquistare un seeker of dex per aggiungerci altri 6 mazzi perché voglio riempirmi di mazzi è plausibile che il costo totale sia non superiore a 24 più il 50% di 24 quindi 12 36 dollari molto molto probabilmente sarà ancora meno perché aggiungi 6 mazzi non vai a modificare tanto il peso e le misure della scatola io faccio pacchi di lavoro lo so quindi molto molto probabilmente sarà comunque o uguale a 24 dollari o poco più sicuramente non sarà 24 più 13 più magari aggiungi hunter of shards più 18 eccetera eccetera quindi questo vuol dire che comunque vi conviene fare acquisti multipli con il vostro gruppo di amici che abitano nella stessa zona tenete conto che facendo un unico ordine non riceverete multipli degli stretch goal quindi se non ve ne frega niente degli stretch goal potete tranquillamente aggruppare accorpare le spedizioni se volete ricevere un hand chain a testa un savior un token set a testa allora in quel caso vi conviene fare ordini separati spero di essere stato chiarissimo su questo in caso vi ascoltate il video perché penso di averlo detto veramente in tutte le sue sfaccettature siamo arrivati quindi alla fine intanto si sale siamo arrivati alla fine della parte relativa strettamente alla campagna e chiaramente è un work in progress perché a questo punto io penso che tra stanotte e domani si raggiungerà i tanto agognati 500 mila dollari e quindi si sbloccherà nuove nuove campagne però io già due giorni sto aspettando di fare questo video perché è tutto un rincorrisi è tutto un continuo fare aggiornamenti nuovi e quindi a un certo punto dovevo uscire con il video e adesso vado a parlarvi del torneo velocissimamente non vi preoccupate il torneo sarà con l'obiettivo di finanziare la campagna quindi avrà un costo di iscrizione di 5 euro e tutto quanto al monte premi verrà dato in pledge della campagna vedete qui le informazioni sarà ovviamente un torneo sul challenge ci organizzeremo sul discord del team GG trovate tutto quanti link in descrizione e il torneo sarà martedì 20 ore 20 e 30 al costo di 5 euro sarà in formato sealed su tco sealed su tco vuol dire che uno va su crucible va bene va a giocare e seleziona il sealed ok ti selezioneremo tutti quanti i set ok e lui vi assegnerà un mazzo casuale questo mazzo casuale sarà diverso ogni turno quindi ogni turno giocherete con un mazzo diverso e sarà solamente la svizzera senza la top quindi saranno 3 o 4 turni in svizzera secondo i partecipanti oltre 24 partecipanti sono 4 turni i turni durano i soliti 40 minuti circa perciò iniziando l'8 e mezzo si finisce ampiamente prima di mezzanotte perciò martedì sera si finisce tutto quanto l'iscrizione la dovete mandare per mail a me quindi la mail leobalda96 chiocciolegmail.com con paypal amici e parenti non bene servizi mi raccomando se no ve le rimando indietro e specificando possibilmente nella causale il vostro nickname di challenge in modo che io possa aggiungervi comodamente senza starvi a rincorrere all'interno di questo torneo le iscrizioni saranno solamente fino a domenica questa domenica 18 notte quindi domenica 18 a mezzanotte perché perché a seconda del numero di iscritti dovremo noi di AZ noi del CMGG insomma io e Lorenzo fondamentalmente decidere quali saranno i premi perché a seconda del budget dato da delle iscrizioni si andrà a selezionare il numero insomma la distribuzione che a noi ci sembra migliore di tutti quanti i premi allora e siccome faremo un ordine unico e lo aggregheremo ad altri non saranno compresi gli stretch goal e quindi sarà solamente ciò che è contenuto nei pledge mi raccomando e faremo un ordine unico noi di AZ e poi ridistribuiremo ai vincitori ciò che gli spetta quindi chi vince dovrà pagare solamente la spedizione da noi a loro quindi non da l'America a noi quella quella spedizione verrà coperta dai col monte premi della campagna come verrà coperta l'iva come verranno coperte tutti quanti gli altri costi qui che non ci sono quindi la spedizione è l'iva quindi questi costi verranno coperti con le iscrizioni il vincitore dovrà aggiungere solamente la spedizione a casa sua partendo da noi di AZ quindi intra Italia si parla di 6-7 euro di spedizione di solito a meno che non voglia venirlo a ritirare dal vivo nella nostra serie a Sesto Ferentino e nel caso non dovessimo arrivare precisi con i conti su dei pledge tutto ciò che avanza verrà donato come mancia alla campagna bene ho coperto tutto quello di cui volevo parlare qui qui siamo a 491 torno in dollari per vederlo ancora ancora meglio ok in questo momento il dollaro vale più dell'euro figuriamoci stamattina era il contrario e io ragazzi vi ringrazio vi ringrazio mi metto a tutto schermo vi ringrazio di avere seguito questo video che è venuto abbastanza lunghetto ma volevo essere veramente molto chiaro molto preciso nell'indicare tutti quanti gli aspetti di questa campagna che mi sta veramente gasando tanto 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 e vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento al torneo che organizzeremo quindi martedì prossimo un abbraccio a tutti quanti ragazzi ciao a tutti